Allora, torniamo da vostro incontro, torniamo alle tante stanza e invece di dire un po' strana, secondo me, non è un suolo, vedete, di riscrizione di Pfizer, di Enemise, che ci si finta e di una ora è data. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.